Radio Doc. Radio Doc. Radio Doc. 3, 2, 3, 4, 6. Musica a denominazione d'origine controllata. Chi c'è? Sapete chi c'è? Ma oggi chi c'è? Cucce c'è. Tra il serio ed il faceto. Interviste con Antonio Puglisi e Cucce c'è. Buon pomeriggio, buon pomeriggio e benvenuti a questo quarto appuntamento con Cucce c'è verso le amministrative. Abbiamo cominciato con Capodorlando, poi abbiamo proseguito con i candidati a sindaco di Patti e di Sant'Angelo di Brora. Oggi torniamo a Capodorlando perché naturalmente ormai mancano meno di 60 giorni alle elezioni amministrative che ricordiamo ancora una volta si svolgeranno soltanto nella giornata di domenica 5 giugno, quindi si voterà soltanto domenica 5 giugno e ci stiamo avvicinando dunque a questa importante scadenza elettorale. Allora siamo voluti tornare a Capodorlando e naturalmente abbiamo deciso di ascoltare, di dare voce anche ai candidati al Consiglio Comunale. Avrei voluto, come ho cercato di fare per l'intera settimana scorsa e inizio di questa settimana, avere tre candidati al Consiglio Comunale, uno per ogni candidato a sindaco, quindi naturalmente un consigliere comunale che rappresentasse Salvatore Librizi, uno che rappresentasse Annalisa Germana e uno che rappresentasse anche Franco Ingrillì. Purtroppo non è stato possibile, lo avete sicuramente già letto oggi su 980.com, il candidato a sindaco Franco Ingrillì ha deciso di non inviare nessuno a questa trasmissione, motivando questa esclusione per i troppi impegni che in questo periodo, in questo momento così delicato della campagna elettorale, i suoi consiglieri comunali hanno. Io vorrei soltanto ricordare a chi ci ascolta e a chi ci guarda anche tramite RadioDoc.tv che soltanto qualche giorno fa sono state presentate ben 5 liste a sostegno del candidato sindaco Franco Ingrillì e in queste 5 liste significa che quantomeno dovrebbero esserci 70 candidati. Adesso immaginare che uno soltanto di questi 70 per un'ora di mercoledì pomeriggio non potesse essere qui con noi per esprimere le proprie opinioni, per esprimere i propri progetti, le proprie idee e le proprie soluzioni ai problemi di questo paese o comunque per migliorare questo paese, beh, mi sembra veramente esagerato. Ne prendiamo atto, ci mancherebbe altro, però insomma è normale anche che chi prende queste decisioni poi se ne assume le responsabilità. Avete visto alle mie spalle, per chi ci sta guardando in questo momento su RadioDoc.tv e magari per chi ci sta ascoltando invece sulle frequenze radiofoniche non si è accorto di nulla l'arrivo anche del secondo ospite. Allora, vorrei proprio cominciare con il presentare i nostri due ospiti sono Michele Ridolfo e Giuseppe Trusso. Buonasera. Buonasera, benvenuti. Michele Ridolfo, 35 anni, avvocato e consulente legale aziendale, laureato presso la facoltà di giurisprudenza all'Università degli Studi di Palermo, è stato docente di diritto del lavoro e diritto sindacale, docente di strumenti e normative per la creazione di impresa nei corsi di specializzazione per operatore socio assistenziale di primo e secondo livello e per operatore turistico e manager del turismo enogastronomico. Ha ricoperto anche il ruolo di consulente aziendale ambientale per aziende leader nel settore edile. Giuseppe Trusso, 36 anni, dottore commercialista revisore legale, laureato nel 2004, giusto? Sì. In Economia e Commercio presso l'Università di Palermo, lavora presso una notissima società multinazionale di revisione contabile, eletto al Consiglio Comunale nel 2011 nella lista di Brizzi Sindaco con 143 preferenze raccolte. E allora, magari non so se lo ha ascoltato il consigliere comunale, attualmente ancora in carica, Giuseppe Trusso, ma ho esordito giustificando, questo è almeno quello che dovevo minimamente fare con i nostri riadascoltatori, il fatto che siete in due e non siete in tre. Ecco, io vorrei partire proprio da qui. Ci sono rimasto veramente male, è stata una cosa che mi ha, voglio dire, colpito. Poi alla fine mi è passata, ci mancherebbe altro e ribadisco il concetto che sarà sicuramente una trasmissione molto interessante, anche questa nonostante l'assenza del candidato al Consiglio Comunale a sostegno di Frank Ingrillì, però, insomma, non mi sembra l'atteggiamento adatto di chi intende candidarsi, di chi ha da esporre delle idee, dei progetti, di chi vuole confrontarsi, perché allora mi chiedo, è la domanda che faccio anche a voi, perché ci si candida allora? Cioè perché ci si candida e ci si mette in gioco sia come sindaco che come consigliere comunale se poi non si vuole confrontare, non si vuole parlare, non si vuole esprimere? Perché onestamente la storia, o la favoletta tra virgolette, dei troppi impegni in questo momento della campagna elettorale mi sembra, vuol dire, anche una mancanza di rispetto nei miei confronti, nei confronti del nostro editore e nei confronti della nostra emittente. Secondo lei, consigliere Trusso? Ma io non so perché non siano presenti, mi dispiace che non lo siano, non credo assolutamente che gli impegni siano così gravosi da non poter garantire a un candidato al Consiglio Comunale diciamo di liberare un'ora della sua vita, però ritengo che ci resto male perché questa compagine che si avvicenda alla vecchia e che dovrebbe rappresentare il cambiamento, mi sembra che se si rifiuta il confronto sta continuando assolutamente in linea con la precedente che rifiuta qualsiasi forma di confronto sui temi, l'ha rifiutato in questi cinque anni, sui temi importanti, quindi credo che stiamo andando in continuità. Michele Ridolfo, stessa cosa anche per lei? Io personalmente neppure me lo spiego sinceramente, anche perché sarebbe stato pure bello insomma confrontarci tutti e tre in questo momento storico e dico io posso dire, posso parlare per me perché ci sono e mi faccio vedere anche perché insomma è giusto così. Ecco appunto, è la sua prima esperienza in assoluto. È la mia prima esperienza politica, giustamente. Volevo chiederle, perché poi alla fine qui le domande le faccio io, quindi aspettate che faccio la domanda. Volevo chiederle, perché questo sostegno a Annalisa Germana? Cioè è un progetto che continua ad andare avanti, nonostante si continui a sentire in giro che poi alla fine Annalisa Germana non si candiderà, ma questo ne parleremo dopo. Però vorrei sapere adesso, cos'è la convinta a sostenere Annalisa Germana? Guardi, io le rispondo subito dicendo che Annalisa ha saputo naturalmente proprio convincere me e il resto del gruppo a partecipare, ad aderire al suo progetto politico. Questo progetto politico che risulta essere una condivisione di idee, idee nostre e idee che le abbiamo fatte appunto proprie. Poi il nostro progetto politico, il nostro gruppo politico è un gruppo molto forte, molto unito contrariamente magari a quello che si può pensare, invece siamo presenti, infatti io oggi sono venuto appositamente per farmi conoscere, soprattutto per farmi conoscere il gruppo, un gruppo comunque eterogeneo, coeso. Siamo di diverse... è un gruppo costituito da libri professionisti, da operai, da impiegati, da studenti. Tutti siamo animati da questo spirito propositivo, ecco. E che non è male, ed è già sicuramente tanto. Invece il sostegno al candidato sindaco di Salvatore Librizi da parte di Giuseppe Trusso lo era già anche cinque anni fa, tanto che ancora oggi siede nei banchi dell'opposizione consigliare al comune di Capodorlando. È allora un sostegno che continua perché insomma a quanto pare se è ancora qui e se si ricandida nuovamente con Salvatore Librizi vuol dire che ci crede. È un sostegno adesso consolidato e ancor più cosciente perché quando è iniziato questa esperienza, quando Salvatore mi ha fatto la proposta cinque anni fa sicuramente a tutto avrei pensato tranne che a candidarmi al Consiglio Comunale, poi le cose sono andate come tutti sappiamo e in questi cinque anni io, a parte aver fatto un'esperienza di vita importantissima e di illuminazione personale perché mi sono accorto che le cose purtroppo non vanno come ognuno di noi spera, cioè il fantastico mondo delle favole non esiste purtroppo, soprattutto nella macchina amministrativa, però in questi cinque anni io ho rafforzato quotidianamente il mio rapporto personale con Salvatore che è una persona di uno spessore straordinario, ha una preparazione amministrativista non indifferente e sicuramente ritengo che sia una persona che possa dare a Capodorlando un contributo non indifferente anche perché il gruppo che lo supporta è un gruppo fatto tutto di persone disinteressate, serie, che hanno tante idee e tante professionalità che possono mettere a servizio della cosa pubblica. A proposito di candidati al Consiglio io naturalmente cercherò di prendere qualche notizia in più perché ancora si è parlato, c'è stato il candidato a sindaco Franco Ingrillì che ha presentato o ha ufficializzato il numero di liste ma non ne ha ufficializzato né il nome né tantomeno i componenti, gli altri due candidati addirittura nemmeno quello, quindi cercherò di avere qualche anticipazione se possibile. La prima che chiedo a Giuseppe Trusso, i candidati uscenti all'opposizione attualmente al Consiglio Comunale si ricandideranno tutti con Salvatore Librizi. Confermo e l'accendiamo. Non mi chiami Gerry da questo momento, non mi sembra il caso. Bene, allora questa è già una notizia, quindi tutti confermati, mentre per quanto riguarda i programmi o quantomeno è quello che si intende fare perché se uno scende in campo, se uno si mette alla prova e si mette soprattutto sotto il giudizio degli elettori, vuol dire che ha qualcosa da dire e da proporre. Lei, come abbiamo detto all'inizio, è un dottore commercialista, insomma si è occupato durante questi cinque anni in Consiglio Comunale da consigliere di opposizione soprattutto di questo argomento, cioè quello legato al bilancio. Ecco, si è tanto parlato in questi cinque anni del bilancio, dei residui passivi, della gestione del denaro a Capodorlando. Con lei vorrei proprio partire da qui, poi ci sposteremo con Michael Loffo per parlare di altro. Ma visto che è la persona più adatta in questo momento qui, uno specialista come mi piace definirlo in questo settore, vorrei capire qual è l'attuale situazione del comune di Capodorlando. È un comune sano dal punto di vista economico? Bisogna che chi succederà all'attuale amministrazione cominci a preoccuparsi oppure no? Allora, io sono molto ottimista da questo punto di vista perché i tecnicismi io li eviterei anche per rispetto di Michele che chiaramente non avendo partecipato questi cinque anni alla vita politica si troverebbe un po' spiazzato, quindi anche per rispetto nei suoi confronti. però dico questo che noi abbiamo in questi anni denunciato più volte il rischio di inesigibilità dei residui attivi. Questa nostra denuncia da prima derisa è stata poi sversata in atti concreti che hanno portato allo stralcio, quindi alla cancellazione di questi residui e il fatto stesso che siano stati cancellati è la dimostrazione tangibile che quello che noi dicevamo non era allarmismo, ma era diciamo conscienza e cognizione di causa. Abbiamo contribuito sicuramente a riequilibrare quello che è il rapporto tra gli impieghi e le fonti, quindi tra i residui attivi e i residui passivi. Che cosa segnalo io? Oggi il Comune ha una grossa fetta di residui passivi, circa 19 milioni di euro. Questi sono tutti debiti che presto o tardi si dovranno pagare. I debiti si pagano quando i crediti diventano cassa, noi ci auguriamo che questi crediti che oggi sono iscritti in bilancio tra i residui attivi diventino presto moneta suonante. E quanto montano questi crediti? Ma il rapporto tra gli impieghi e le fonti è uguale perché c'è il principio del pareggio di bilancio. C'è da dire questo che io sono molto sereno nell'affrontare un'eventuale sfida amministrativa. È chiaro che io sono qua in rappresentanza di tutto il gruppo, cioè domani potrei anche non essere eletto, ciò non di meno io darò il mio contributo sempre e comunque voglio dire perché vince il gruppo, non vince il singolo. Quindi io sono molto sereno nel dire che se la futura amministrazione procederà ad una spending review e ad una gestione delle risorse molto più oculata e meno dispendiosa, eliminando tutte queste prebende che ci sono a destra e a manca, esperti, espertini, espertoni e tutti questi soldi che noi buttiamo, proprio strappiamo, l'argomento mi fa inalberare per non dire un'altra parola, moltissimo. Allora se noi, se l'amministrazione che vincerà inizierà un'attività diciamo di sana gestio, io sono convinto, convintissimo che le nostre risorse ci consentiranno di realizzare grandi progetti. Quindi io di fatto da pseudo economista quale sono, non mi faccio intimorire dai falsi allarmismi. Bene, passiamo invece adesso a Michele, anzi no, prima andiamo in pubblicità e subito dopo torniamo con Michele Ridolfo. Parleremo con lui di una cosa che riguarda principalmente il suo candidato che sostiene, cioè Annalisa Germana e se ne è discusso proprio qualche giorno fa in Consiglio Comunale, cioè quello relativo alla proposta sulla discussione di queste variazioni che sono state fatte nell'ambito dei parcheggi a pagamento a Capodorla, fanno un argomento molto interessante che alla gente poi in fin dei conti interessa parecchio. Quindi tra pochissimo dopo la pubblicità con Michele Ridolfo e Giuseppe Trusso. Conoscere, sapere, ridere su Radio Doc. C'è, 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 c'è tra il serio e il faceto. Rieccoci nuovamente in diretta qui su Radio Doc e naturalmente anche su Radio Doc.tv per chi ci vuole seguire anche in video, peraltro avete la possibilità di seguirci anche durante la pubblicità in video, quindi potete anche scoprire il dietro le quinte della trasmissione. Allora, eravamo rimasti con Michele Ridolfo di occuparci di questo argomento che alla gente interessa tanto. Poi lo chiederemo anche al consigliere Giuseppe Trusso perché anche il suo candidato a sindaco ha fatto una proposta in tal senso e vorremmo approfondirla. Però in Consiglio Comunale si è discusso, un parolone discusso, però si è parlato di questa proposta del candidato a sindaco, Annalisa Germana, di revisionare quelle che sono state le modifiche apportate poco prima di Natale e che sono in vigore dal primo gennaio del 2016. In sintesi, l'amministrazione comunale ha deciso di sospendere il pagamento dei parcheggi a strisce blu la domenica, ma allo stesso tempo, e questo è un aspetto che forse non si è tanto discusso, però è reale, nei periodi estivi questo parcheggio a pagamento sarà in vigore fino alle ore 23. Quindi questa è una cosa che un po' a tutti ha lasciato perplessi. Che cosa ritiene il consigliere, il candidato al Consiglio Comunale, Michele Ridolfo, su questo argomento di voler dire? Allora, innanzitutto io specifico che la questione parcheggio ovviamente è una questione che rappresenta uno dei punti cardini del nostro programma politico. Infatti quello che noi vogliamo fare è proprio ridistribuire, riorganizzare un po' l'aspetto geografico dei parcheggi, soprattutto in prossimità di quelle strutture che offrono servizi pubblici, quali ambulatori, farmacie, parafarmacie, oppure lo stesso ufficio postale. Tutti i cittadini si lamentano che non possono parcheggiare e che non possono fruire di questi servizi pubblici, che allo stato attuale non viene la soluzione, l'utenza non viene allo stato attuale ascoltata. Quindi appunto il candidato sindaco Annalisa Germana preme su questo, proprio perché c'è un'esigenza della popolazione che viene comunque completamente disattesa. Quindi dico, io sposo il programma politico ovviamente di Annalisa, tra cui anche questo qua dei parcheggi. Anche perché, ricollegandomi a quello che ha detto lei, poc'anzi, aumentare la fascia oraria fino alle 23 comprometterebbe anche, ovviamente, i turisti come vanno a mare, dove scendono a mare. Giustamente devono pagare di più e non vengono. Quindi ciò insomma inificia anche questo aspetto. Sì, soprattutto nelle ore serali probabilmente ne risentirebbero anche le attività commerciali. Però, voglio dire, un fatto assodato è che il parcheggio a pagamento mette ordine, su questo non c'è dubbio. Da un'inchiesta fatta proprio da 98.0 qualche mese fa abbiamo scoperto che comunque allo stato attuale, purtroppo, ancora a Capodorlando, sono più gli stalli a strisce blu che quelli a strisce bianche. Già questa è una cosa che non va bene, anche se non in maniera così incredibile. Però, purtroppo, numericamente è questo il dato. Oltretutto, l'avanzare questo, diciamo, pagamento fino alle 23 ha lasciato un po' perplessi tutti. Invece il vostro gruppo di minoranza aveva presentato negli anni, se non mi sbaglio, un'interrogazione e una richiesta proprio per cercare di non far pagare quanto meno il parcheggio a pagamento la domenica. Quindi poi è stato fatto, è stata raccolta la vostra richiesta. Allora, noi abbiamo presentato un'interrogazione appena insediati perché non eravamo d'accordo sulla gestione precedente delle strisce blu che vedeva penalizzato il comune perché la maggior parte dei proventi andavano a finire sotto forma di agio alla società precedente. avevamo chiesto di internalizzare il servizio, di procedere allo scassettamento in house, però ovviamente non si è dato assolutamente seguito a questa proposta. Successivamente abbiamo proposto con una mozione di sospendere il pagamento dei parcheggi la domenica e i giorni festivi. La mozione c'è stata scandalosamente bocciata in Consiglio Comunale e talmente erano convinti in opportunità di questa mozione che poi di fatto a distanza di un anno si sono come dire orientati verso quella proposta che noi abbiamo fatto. Sono assolutamente contrario all'elevazione delle strisce blu fino alle 23 perché noi a volte abbiamo la tendenza diciamo di peccare di presunzione in questo paese. Non possiamo assolutamente dobbiamo tendere al livello di Taormina, di Cefalù certamente ma non possiamo pretendere voglio dire di essere già a questo livello. Questa è presunzione. Presunzione tipica di chi ci ha preceduto. Allora il parcheggio fino alle 23 è assolutamente fuori luogo, è disincentivante soprattutto quando in estate le attività commerciali restano aperte anche dopo l'orario di cena. Adesso sarà un problema per chiunque arriverà se vorrà modificare questi orari o comunque anche queste tariffe, queste giornate a pagamento, mettersi d'accordo con il gestore. Oltretutto volevo aggiungere una cosa giusto per inciso, comunque il sistema anche dei sensori, insomma è un sistema che è invidiato anche da altre parti, è un sistema molto efficiente ed efficace in questo caso. Ma io da questo punto di vista ho una mia visione personalissima nel senso che io ho sempre ritenuto che il territorio del comune è di proprietà dei cittadini, i cittadini non devono pagare ulteriormente per stare sul territorio del comune. Allora si possono trovare altri strumenti, altre modalità per rendere ordinate le strade. Però non necessariamente si deve incidere sul pagamento delle strisce blu. È chiaro che le strisce blu fanno cassa, fanno cola al comune non c'è dubbio, però sul tema sarà difficile rimodulare, insomma grazie a Dio entrambi appoggiamo due avvocati quindi i contratti, non c'è contratto che non possa essere rivisto, rientra nella trattativa delle parti, fino a quando il contratto andrà a naturale scadenza e poi si cambierà registro su questo tema. Una proposta che ha avanzato il candidato a sindaco che lei sostiene è stata quella di dire pubblicamente uno dei primi messaggi Facebook che ha postato chi compra a Capodorlando non paga il parcheggio. Come dovrebbe funzionare? Lo sa? Allora la modalità è allo studio e al vaglio, la stiamo definendo perché ovviamente il video di salvo è un video provocatorio, non c'è dubbio, che verrà affinato, già ci stiamo lavorando per trovare una soluzione che consenta un monitoraggio ovviamente dell'avvenuto pagamento e quindi dell'esenzione del parcheggio. Però mi sembra una sfida molto importante soprattutto nei confronti dei negozianti ai quali chiederemo ovviamente un contributo nei termini di non parcheggiare le macchine alle 8 di mattina alle 9 di sera, le vostre perché se no non abbiamo fatto niente. Cioè l'obiettivo è quello di incentivare chi deve venire a fare compiere a comprare a Capodorlando, non quello di far parcheggiare le macchine. Poi chiaramente questo a fianco unitamente alla revisione anche dei costi degli abbonamenti soprattutto per chi ha delle attività commerciali. Bene, questa è un'altra proposta, un altro argomento molto interessante che sicuramente sarà trattato durante questa campagna elettorale nei vari comizi, nei vari messaggi, nei vari incontri, nei vari confronti che speriamo di continuare a poter fare. Leggo nella scheda, anzi ho letto già all'inizio del programma nella scheda di Michele Ridolfo che si è occupato anche di turismo enogastronomico e questo può essere un punto forte che riguarda Capodorlando e non soltanto altri paesi del nostro interna perché in effetti a Capodorlando ci sono delle eccellenze che probabilmente dovrebbero essere maggiormente qualificate. Condivide questo? È nel vostro programma questo aspetto? Certo, è nel nostro programma soprattutto in linea e in vista anche dell'apertura del porto, del porto insomma turistico. Tra i punti presenti nel nostro progetto politico vi è quello appunto di valorizzare quella che è l'economia imprenditoriale, insomma giovanile, consentire appunto a quelle persone, a chi può insomma di poter avviare un'attività e perché no? Anche un percorso enogastronomico e quindi far venire gente da fuori garantendo servizi, servizi insomma compatibilmente ottimi, ecco dal punto di vista anche... Una domanda provocatoria. Michele Ridolfo, non il candidato al consiglio comunale del sindaco prego. Cosa ne pensa della proposta fatta da in questo caso Salvatore Librizi per esempio di chiudere durante l'estate il lungomare Andrea Doria? Da cittadino, quindi cosa ne pensa? Allora, io ho visitato parecchie città turistiche tra cui ad esempio quella la nostra più vicina è quella di Cefalu. Dico potrebbe andare bene anche perché sul lungomare ho visto comunque che ultimamente c'è una concentrazione appunto di persone perché diciamocelo chiaro il nostro biglietto da visita è il nostro mare quindi sarei personalmente d'accordo con questa idea. Da cittadino e da utente. Invece Giuseppe Trusso, questa è un'altra provocazione che ha lanciato Salvatore Librizi? No, assolutamente, questa è una proposta che noi facciamo da tre anni a questa parte ma come tutte le altre viene messa in pila nel dimenticatoio. Noi riteniamo che sia molto proficuo e conducente per il paese avere questo spazio di front, sì diciamo, di spazio di passeggiata sul mare. Perché? Perché appunto come diceva Michele il mare è una risorsa perché soltanto attraverso la creazione di questo percorso vengono stimolate anche le attività commerciali che potrebbero affacciarsi poi sul mare perché ci sono posti in cui il tramonto non ce l'hanno e lo vorrebbero avere e riescono a fare degli aperitivi al tramonto che la metà basta e noi che abbiamo un patrimonio straordinario che è questa vista sulle olie col tramonto, noi qui dovremmo avere il pienone, noi abbiamo un lungomare che è transitato, allora bello sì, chiaramente, sarebbe ancora più bello se fosse chiuso. Eh sì certo, mangiare o farsi un aperitivo senza il motorino accanto che ti strombetta o l'autobus non è male, anche perché spesso si è discusso del fatto, l'ha citato prima Michele Ridolfo Cefalù, no? Cioè mi è capitato, come penso un po' tutti d'estate di frequentare Cefalù nel fine settimana, beh lì chiudono non soltanto il centro storico ma anche il lungomare. Ma l'aggravante qual è? Che l'affluenza di turisti a Cefalù non è paragonabile a quella di Capodorlando e quindi ancora peggio. Quindi quando mi si parla di viabilità impossibile a Capodorlando se si chiude il lungomare, beh rimango un attimino perplesso, perché sinceramente vedendo Cefalù la gente poi passeggia, poi la macchina sì, me la vado a prendere la notte, mi farò più strada, però sarà così. Non è una cattiva idea sinceramente, da cittadino naturalmente, come ha confermato anche Michele Ridolfo. Continuiamo con Giuseppe Trusso perché vorrei tornare un po' al discorso di specialista, no? Cioè economico proprio, dei conti. Mio malgrado. E vabbè, non so, poi parleremo di sport se vuoi. No, no, grazie. Allora, si è parlato tanto, soprattutto in questa fase finale del mandato di questa amministrazione, di alienazioni, no? Sì. Soprattutto il vostro gruppo consigliare all'opposizione ha assunto una posizione ferma su questa alienazione, soprattutto quella della Casa Bergo Anziani. Funzionano le alienazioni? Cioè sarà un qualcosa che anche se dovesse vincere Salvatore Librizi porterete avanti come idea, cioè quella di fare cassa, mettendo a disposizione di chi ha la possibilità di acquistarli anche quelle strutture ormai alienate. Allora, finora tutte le strutture che sono state alienate sono rimaste lì, voglio dire, così come erano, come mamma le ha fatte, voglio dire. Quindi questo grande successo delle strutture alienate io non lo vedo, ancora sospettando la struttura ricettiva lì all'ex commissariato, no? Però vabbè, questa è un'altra... Quella è stata venduta? Sì, quella. Questa è stata venduta, sì. Allora, le strutture si alienano se il Comune non è in grado di utilizzarle a servizio dei cittadini. Cioè oggi ci sono a Capodorlando tante associazioni, per esempio, che non hanno una sede o che si devono fare carico del costo di affitto mensile di una sede. Sono associazioni che promuovono lo sviluppo della persona, lo sviluppo della società. Non vedo perché il Comune debba alienare una struttura per fare cassa, per sopperire a delle spese pazze che ha fatto prima, quando invece potrebbe utilizzare gli immobili che ha, ristrutturati, per metterle a disposizione delle associazioni. Eh, ma io voglio... adesso... Entriamo dentro proprio all'argomento principale, secondo me, che le riguarda. Avrà spulciato il bilancio, perché è il suo mestiere, no? Cioè lei spulce i bilanci di grandi aziende, quindi avrà spulciato anche quello del Comune di Capodorlando. Quali sono queste spese pazze a cui fa riferimento? Perché mi continua a dire... Noi dovremmo fare una puntata di 15 giorni. No, no, brevemente. Abbiamo due minuti. Ah, ci sono delle cose che io avrei fatto diverse a me, che noi avremmo fatto diverse a me. Intanto voglio dire, noi abbiamo un esperto al punto ruolo rosso a Capodorlando, non so se lei lo sa, no? Molto importante, prezioso, ci mancherebbe, assolutamente, ma penso che sia così necessario, no? Così come anche... così come anche servizi che vengono... Ma è un esperto a pagamento, cioè nel senso viene pagato dal Comune, cioè dai cittadini? Direi... Non lo so, lei non deve dire, io non... Guardi, io lancio una provocazione, noi paghiamo quelli a titolo gratuito, si immagini quelli che non sono a titolo gratuito. Poi ci sono tante altre... La sua affermazione, io non posso, certo. Ci sono tante altre, tante altre, come dire, tante altre spese che potrebbero essere limate, riviste, sistemate, gestioni varie ed eventuali, gestione degli autobus per esempio, noi gli scuolabus, noi avevamo fatto un'interrogazione in passato dicendo perché non compriamo questi scuolabus anziché noleggiarli a 40.000 euro l'anno. Immagini lei in vent'anni quanti se ne sarebbero comprati. Ci saremmo fatti un parco... un parco... un parco autobus che avremmo potuto utilizzare per fare i collegamenti con l'aeroporto, per assicurare i collegamenti con l'aeroporto. La lancio là, ovviamente è una provocazione. Insomma, voglio dire, non c'è... non c'è... poco spazio per fare dieta. Ma c'è spazio per fare un bilancio sicuramente limitato, diverso, per risparmiare? Io sono sicuro, io sono convinto di sì, assolutamente sì. Cioè noi possiamo... possiamo, come dire, garantire una gestione oculata dell'ente che ci consenta di fare cassa, di reinvestire le risorse. Passiamo a Michele... Per esempio a Capodorlando... Scusa, prego, prego. 30 secondi. Il tema della spazzatura, noi affidiamo... È un punto che è segnato per dopo, quindi io direi di soprassedere al momento e poi ci ritorniamo. Invece con Michele Ridolfo, prima di andare in pubblicità, volevo parlare anche di riqualificazione del territorio, perché è un argomento che ho visto anche grazie all'impegno di architetti, professionisti orlandini che si sono prestati anche a consigliare il candidato a sindaco Annelisa Germana. Ci sono dei progetti importanti. E cosa ci dice a proposito? Sì, ci sono dei progetti importanti che fanno parte del nostro progetto politico, proprio in Liria anche, proprio perché essendo Capodorlando una cittadina turistica, ovviamente il territorio va riqualificato, soprattutto va riqualificato quello che è il verde pubblico. Il cittadino si deve sentire a proprio agio quando passeggia sul lungomare, quando passeggia anche nelle contrade. Quindi tra i nostri obiettivi è proprio quello di spendere qualcosa in favore della riqualificazione territoriale, proprio perché Capodorlando non ha nulla che invidiare alle altre, tipo cefalo, alle altre cittadine. Quindi è un aspetto che va valorizzato, quella della politica del territorio. Bene, allora noi ci fermiamo adesso per dare spazio un attimo alla pubblicità, poi torniamo tra pochissimo, avremo altri argomenti da trattare, parleremo di rifiuti, parleremo di precari, parleremo anche di questa campagna elettorale, di come la stanno vivendo. I due candidati al Consiglio Comunale qui presenti, Giuseppe Trusso e Michele Ridoffo, a tra poco. Conoscere, sapere, ridere, su Radio Doc. Cucece, cucece, tra il serio e il faceto. Rieccoci dunque nuovamente insieme su Radio Doc, con questo appuntamento che ogni mercoledì vi tiene compagnia in diretta, sia streaming video che audio, dalle 17 alle 18, cucece verso le amministrative. Oggi parliamo di Capodorlando, abbiamo due consiglieri comunali candidati, anzi due candidati al Consiglio Comunale, Giuseppe Trusso e Michele Ridoffo. Io continuerei, anche dopo la pausa pubblicitaria, ci eravamo fermati con Militare Ridoffo, continuerei proprio con lui per capire da lui, visto che ha la sua prima esperienza elettorale, non hai mai avuto questa esperienza. Come la sta vivendo? Quali sono le sensazioni che sta provando? Se si rende conto che è un impegno veramente importante? Se prende tempo alla sua attività, insomma, un po' di tutto. È un impegno profondo, ovviamente, ma lo spendo volentieri per tutti i nostri concittadini. Ribadisco il concetto che io oggi ho voluto essere presente qui proprio perché, per dire che noi come gruppo ci siamo, quindi poi ricollegandomi al fatto, io sono stato spettatore in passato dell'attività politica e proprio per questo ho voluto questa volta mettermi in gioco, proprio perché faccio parte di un gruppo, infatti non parlo in maniera individuale, parlo io come gruppo, proprio veramente perché mi sostengono, ci sosteniamo appunto a vicenda e siamo proprio animati di buoni, appunto, propositi. Ovviamente quello che appare per ora, in questo momento, è magari, e si sente più parlare, sì, di Ingrillì, diciamo, di Librizi, poco di Analisa Germana, però, insomma, io oggi sono presente e quindi proprio per questo voglio sfatare, ecco, questo mito e quindi dire che ci sono e che ci siamo come gruppo, gruppo coeso, gruppo unito. Io naturalmente ringrazio sia Analisa Germana, che peraltro non c'è nulla da nascondere, ha anche accompagnato il suo candidato qui a Radio Doc, proprio segno di sostegno di questa iniziativa e ringrazio anche Michele Ridolfo che ha voluto partecipare e mettersi in gioco proprio, per un confronto con altri candidati, probabilmente con maggiore esperienza politica, con maggiore... Esatto, sì, perché noi siamo per una politica fatta... Le fa un grande onore la sua presenza qua. Noi siamo proprio per la politica fatta per la gente e con la gente, quindi per questo mi sto spendendo, quindi spendo volentieri questo mio tempo. Mentre per Giuseppe Trusso, cosa le sembra di questa campagna elettorale? Cioè, come si sta... si è partito secondo me con larghissimo anticipo, devo dire la verità, secondo me partire... Arriveremo a finire. Gennaio, partire a gennaio è stato veramente con largo anticipo, che poi insomma lì è stata a fine gennaio, insomma è partito tutto. Adesso mancano meno di 60 giorni, però forse si è partito in anticipo. Allora, noi siamo partiti cinque anni fa, per cui voglio dire siamo in campagna elettorale dal giorno dopo delle elezioni, siamo sempre stati sul pezzo in questi cinque anni. Mi dispiace quando sento qualche collega suo che dice che questo è il peggior consiglio comunale della storia, addirittura, perché io invito i nostri radioascoltatori a andare sul sito www.latuavoce.net dove a nostre spese abbiamo voluto mettere nero su bianco tutte le azioni fatte in questi cinque anni. Sono parecchie, abbiamo fatto oltre 70 interrogazioni, 5 emozioni, 3 proposte di deliberazione su temi importanti, quindi non pretestuose, non strumentali. E credo che la nostra attività sia sotto gli occhi di tutti. Come vivo questa campagna elettorale? Io sono molto sereno, nel senso che purtroppo, per fortuna, direi più per fortuna, la mattina comunque vada, mi devo alzare per andare a lavorare, perché mi devo buscare alla pagnotta. Per cui non ho lo stesso attaccamento alla voltrona che vedo in alcuni dei miei colleghi, di cui non farò il nome neanche sotto tortura, perché ovviamente non mi faccio querelare da loro, però a differenza di alcuni miei colleghi, ahimè, vado a lavorare. Quindi comunque vada, sono sereno. C'è da dire una cosa in più però, che quando una persona, e noi quattro consiglieri uscenti e qualche altro ovviamente, cioè la maggior parte degli altri ci mancherebbe anche della maggioranza, quando una persona fa politica perché ci crede, perché vuole prestare la sua opera, le sue capacità, la sua professionalità alla cosa pubblica e lo fa con questo livello di disinteresse e non c'è attaccamento né al danaro né alla poltrona. Io dico sempre che è vero che bisogna chiedere il voto, però paradossalmente siamo noi che stiamo mettendo la nostra vita nelle mani delle persone. Io ringrazio tutti quelli che ci daranno fiducia, però in primi si sento di ringraziare me stesso, Michele, tutti quelli che si candidano, perché noi stiamo rinunciando comunque a una parte della nostra vita, del nostro tempo, della nostra spensieratezza e del nostro stomaco, purtroppo, l'ulcera, della nostra non gastrite, per metterci a disposizione della comunità e quando veramente lo si fa in modo disinteressato, come vedo la campagna elettorale? Una campagna elettorale basata sulle idee, sulla concretezza, sto notando che le idee della controparte spesso sono stimolate dalle nostre, ci inseguono, li vedo molto all'inseguimento, ci sono stati degli atti che mi hanno fatto capire che sono molto all'inseguimento, questo mi fa piacere perché vuol dire che li stiamo stimolando, parimenti al contempo ci sta inseguendo anche l'amministrazione perché ovunque passiamo noi si fanno opere pubbliche, il parcheggio della trazzera marina, l'asfalto elettorale, tutte queste belle cosine che stanno sistemando come se gli elettori fossero stupidi, mi auguro che non lo siano, queste cose le dovevano fare, un'elezione ogni sei mesi, voglio dire, e quindi è una corsa verso il milione di tutti, però paradossalmente dall'altro lato noto un certo attaccamento alla poltrona. Bene, torniamo invece a Michele Ridolfo, da Orlandino naturalmente adesso impegnato anche in politica per questa campagna elettorale, qual è secondo lei il problema che va attenzionato maggiormente e soprattutto ne avrete discusso sicuramente nel vostro gruppo con il candidato al sindaco Annalisa Germana, qual è quella cosa che probabilmente Capodorlando necessita di maggiore attenzione ed è una delle prime cose da fare? Ovviamente come ho già risposto prima, una maggiore attenzione per la gestione del turismo, ovviamente io personalmente sono avvocato e credo nella politica del risparmio, quindi evitare magari che un comune possa, come dire, aggravare il proprio bilancio con dei contenziosi che magari si possono evitare. Io vedo in tribunale a volte magari dei comuni che spendono fior a fior di quattrini per cause che magari possono essere definite così, magari anche sul nascere. Questo magari è un aspetto che io personalmente dal mio punto di vista ritengo che sia indispensabile e delicato. Un aspetto, se mi posso permettere, del quale nessuno aveva ancora discusso fino in questo momento, quindi sei il primo e complimenti anche per aver sopevato questo aspetto. Sì, anche perché, che ne so, dalla semplice multa ad esempio il contribuente o il trasgressore in questo caso, sa che può fare un ricorso in autotutela anziché contestare il verbale davanti a un giudice di pace che poi emetterà una sentenza di condanna nei confronti appunto del comune, dell'ente impositore in questo caso. Non so se tutti sono aggiornati sotto questo punto di vista, ma facendo un semplice ricorso in autotutela magari in cui si accerta che effettivamente la multa è pagata, quindi ciò sgrava insomma di ulteriori costi. Sicuramente si può risolvere ancora prima che nasca il problema. C'è più informazione sotto questo punto di vista? Certo che però l'ordine degli avvocati non esserà tantissimo di queste cose che diciamo, però metteremo un ordine all'ordine. Era soltanto una battuta. Torniamo a Giuseppe Trusso. Abbiamo accennato prima un argomento importante che avevo già anticipato e avremmo trattato, cioè quello dei rifiuti. Ho già detto in occasione del primo confronto qui tra i candidati Librizi ed Ingrilli che tutto si può dire che costa troppo, che è insomma quello che si vuole, ma che Capodorlando non sia pulita non si può dire. Effettivamente Capodorlando è un fiore all'occhiello sotto questo punto di vista rispetto anche a comuni limitrofi. Veramente splende, almeno il centro sicuramente splende in relazione alla pulizia. Qual è il vostro progetto legato alla raccolta dei rifiuti? Anche perché nel corso di questi cinque anni con l'Associazione Paese Parallelo ma anche voi del gruppo di minoranza avete proposto delle soluzioni e soprattutto invitato l'amministrazione anche a fare delle gare invece di affidamenti diretti. Allora sì, il tema è abbastanza delicato. Noi in questi anni abbiamo cercato di essere sul pezzo. A Capodorlando dal 30 settembre 2014 si va a oltranza con l'ordinanza, pure in rima io l'ho detta, direttore. Un'ordinanza che affida il servizio sempre alla stessa ditta e altri comuni vicini, per esempio il comune di Sinagra, ha sì affidato il servizio con un'ordinanza ma dopo aver espletato una gara che ha consentito un ribasso del 20%, 23%. Quindi tutte queste attività non fatte sono ricchezza sottratta ai cittadini, che se ne dica, voglio dire. Poi possiamo confrontarci da qui fino a un altro anno su questo tema. I fatti purtroppo ci cozzano. Quindi anche come il caro Gas, mi ricordo, che avete portato avanti una battaglia. Su questo ora farò una piccola parentesi importante. Sul tema quindi Monnezza dicevo che cosa si deve fare. Intanto voglio dire aspettiamo con ansia che l'Ureca celebri questa gara che si rimanda da tempo e che finalmente si riassegni il servizio con un ribasso. Ciò nonostante si deve mettere mano a tutta la gestione della spazzatura perché il costo è esorbitante, esagerato. Cioè lì si deve entrare nel merito anche della definizione della tariffa. Anche in deroga rispetto a quella che è la... in deroga sempre però nell'ambito delle facoltà consentiteci dal legislatore che ha istituito con la Tari. Però si devono trovare delle soluzioni, penso alle isole ecologiche, penso a carte che fanno guadagnare crediti ai cittadini, un po' come stanno facendo a Torrenova. Penso allo sfruttamento appunto del... non dico del riciclaggio perché potrebbe sonare male, del riciclo, del riutilizzo. Comunque all'estero la monnezza è ricchezza perché qui non deve essere lo stesso. Per quanto riguarda il paese pulito, il paese è pulito, direttore, certo è pulito, ma il paese è pulito perché c'è un servizio che è il servizio di spazzamento che è ulteriore rispetto a quello di raccolta che a noi cittadini costa 600 mila euro l'anno. Sfido io, è chiaro che è pulito. Se non fosse pulito pagando 600 mila euro penso che veramente saremmo messi male. Allora questo servizio, noi unitamente gruppi anche di Forza Italia, quindi a Sarina e a Daniela, abbiamo chiesto sempre che venga svolto dai dipendenti comunali. Perché questo potrebbe creare le basi per una stabilizzazione. Posso fare una parentesi sul gas? Veloceissimo. Veloceissimo. A Capodorlando quando noi siamo stati eletti si pagava il gas 1,50 euro al metro cubo, oggi si paga 0,38. L'amministrazione se ne è strainfischiata di far rispettare una convenzione che prevedeva la costruzione di un tubo di allaccio alla rete regionale che si chiama FIDER. Finalmente dopo tre interrogazioni e una mozione, come per magia, si sono svegliati dal sonno perché il sindaco ha finalmente detto, ovviamente lui ha la tendenza a prendersi i meriti perché purtroppo è fatto così. Noi gli vogliamo bene così. Ma di fatto la battaglia l'abbiamo condotta noi, l'abbiamo vinta noi, anzi l'hanno vinta i cittadini, l'abbiamo condotta noi e l'hanno vinta i cittadini. Oggi siamo competitivi come tutti gli altri paesi. La devo interrompere perché vorrei passare nuovamente da Michele Ridolfo che ricordiamo è la sua prima esperienza politica e poi secondo me è anche la sua prima intervista. La prima era assoluta, mi ha battezzato. Meno male, meno male. Quindi naturalmente se capirete, tratto argomenti con un consigliere comunale in carica che si è occupato anche di questi argomenti nel corso di questi cinque anni con l'avvocato Michele Ridolfo, naturalmente ci occupiamo di altri argomenti legati più al turismo. Ecco, a proposito di questo, il porto di Capodorlando, che devo dire, sto seguendo anche da vicino dal punto di vista giornalistico, risulta essere almeno dal punto di vista visivo al momento un'opera veramente incredibile. Cioè una gran bella opera che se all'inizio era partita così un po' in sordina, un cantiere di 40 milioni di euro che invece partiva lentamente, oggi bisogna ammettere che effettivamente ci sono le basi per un bel progetto a conclusione. Non si sa quando aprirà, si parla insomma subito dopo l'estate del 2017, però insomma si vedrà adesso quando verrà completato. Come può essere sfruttata questa struttura e quanto secondo voi può essere importante per il nostro paese? Ovviamente è importantissima, è un ottimo trampolino di lancio per Capodorlando. Come dicevo poc'anzi, permetterebbe anche l'incremento di determinate attività. Chiunque, qualsiasi giovane, anche disoccupato, si può inventare un'attività anche sul lungomare, anche nelle zone limitrofe appunto al porto, è appunto incrementare l'economia locale. Un altro aspetto che fa parte del nostro progetto appunto politico, quindi valorizzare la politica economica appunto locale, consentire ai giovani, ai ragazzi, a tutti quanti di poter aprire un chiosco, un qualcosa, insomma qualcosa che porti una ventata di freschezza appunto a Capodorlando in linea con la sua naturalezza che è appunto quella di essere una città bellissima, turistica e quindi che come dicevo prima non ha nulla che invidiare alle altre appunto città. Il porto ovviamente sta avvenendo appunto bene, è un ottimo trampolino di lancio, un'ottima opportunità di collegamento anche con le isole olio, con qualsiasi altra località. Appunto per questo mi riallaccio anche a un altro aspetto del programma politico, migliorare quindi quello che è la viabilità soprattutto i trasporti urbani ed extraurbani, quindi perché comunque quelli che ci sono non sono talmente discutibili, quindi proprio in vista dell'apertura del nuovo porto, quindi migliorare già quelli che ci sono proprio anche grazie appunto al porto che verrà costruito. Decisamente e a proposito di trasferimenti, di porto, io con lei vorrei parlare, l'ha accennato prima lei, consigliere Trusso, cioè quello dei precari, ha parlato dei precari, ecco l'attuale situazione è un po' drammatica, drammatica per tanti aspetti, non è che adesso vogliamo accusare, almeno il sottoscritto non vuole accusare nessuno in particolare, ma si sono prese delle posizioni piuttosto ferme da un lato e dall'altro, cioè non c'è più dialogo, non si è tentato l'ultima volta di andare addirittura al prefetto per cercare di fare da mediatore di una situazione veramente preoccupante, ma anche lì fumata nera, il comune non intende più anticipare le somme che poi riceverà dalla regione e quindi adesso questi precari si ritrovano ancora con tanti arretrati di mensilità da avere e da ricevere, hanno passato anche una Pasqua, non credo proprio felicissima, con sei mensilità ancora da incassare e al momento sembra che la situazione sia ancora ferma, peraltro a giorni sembra che ci sia un'ulteriore iniziativa da parte dei sindacati, dei precari, insomma questa situazione può essere risolta, cioè parlando col sindaco di Patti, apro una parentesi, quando è venuto qui nel confronto con un altro candidato, ci ha confessato che verificando che ha lo stesso numero di precari, che ha lo stesso finanziamento da parte regionale che viene erogato nello stesso periodo del comune di Capodorlando, non è indietro nemmeno di un giorno, perché hanno deciso di anticipare le somme, pagare i dipendenti precari come quelli nello stesso giorno dei dipendenti a tempo indeterminato e quindi la situazione al momento è assolutamente sì, è vero che ancora attendono soldi, però hanno la capacità economica di poter anticipare, a Capodorlando questo non è possibile. Allora, io le posso dire che il tema dei precari è un tema molto delicato, perché quando si ha a che fare chiaramente con persone che vivono di questo lavoro, è chiaro che io faccio sette passi indietro, voglio dire minchino quasi, i precari nascono per delle scelte politiche passate, 30 anni fa, anche di 20, chi c'è ancora ha contribuito anche al crescere di questo numero, perché voglio dire evidentemente, dico non glielo devo spiegare io perché, però oggi i precari, molti dei precari fanno come dire svolgono un ruolo all'interno del comune che è determinante, cioè paradossalmente se non ci fossero loro l'ente andrebbe in congestione in alcuni uffici, ahimè. Allora è un tema che si deve affrontare assolutamente, cioè noi non possiamo essere per i tagli dei posti di lavoro, noi dobbiamo cercare di trovare le risorse per garantire a questi signori uno stipendio, per garantire a questi signori di continuare a svolgere il proprio lavoro. Quindi non mi piace parlare di tagli, i tagli sono una cosa brutta, anche perché il comune chiaramente, che se ne dica, non è un'azienda e quindi non ha l'obiettivo dell'utile, ha l'obiettivo del pareggio e l'obiettivo del pareggio significa che tutte le somme che entrano devono essere spese fino all'ultimo centesimo per assicurare i servizi alla collettività. Questo ha voluto il legislatore e questo facciamo. Abbiamo quasi concluso, quindi per chiudere io faccio la stessa domanda ad entrambi i candidati visto che naturalmente sostenete i vostri candidati a sindaco, quindi adesso io vi chiedo ad entrambi, a Giuseppe Trusso e a Michele Ridolfo, partiamo proprio da quest'ultimo, del perché le persone che ci stanno ascoltando o vedendo dovrebbero votare, nel suo caso l'avvocato Annalisa Germana, nel caso del consigliere Trusso l'avvocato Salvatore Visi. Poi naturalmente se questo lo volete trasformare in un'autopromozione per il vostro voto a consigliere, avete carta bianca. Quindi avete due minuti a testa, non di più. Prego. Io con molta naturalezza sostengo Annalisa Germana proprio perché ho spostato il suo progetto politico. Diciamocelo tutto, Annalisa Germana non è una qualunque, insomma, è una persona che si è sempre impegnata a livello politico durante l'amministrazione pregressa. Quindi non è una persona che conosce bene quelle che sono le problematiche attuali che ci sono state, soprattutto è una persona che ha individuato magari delle soluzioni che possono essere comunque, che ribadisco, condivise appunto con tutta la collettività. Infatti lo scopo principale del progetto politico appunto condiviso da me, dal mio gruppo e da Annalisa Germana è proprio quello di rendere trasparente appunto questi singoli punti perché dobbiamo essere vicino appunto alla gente e soprattutto ascoltare la gente. Io ritengo che Annalisa anche dal punto di vista professionale che conosco, anche dal punto di vista umano è una persona comunque che comunque cammina con i piedi per terra. Ecco, è una persona appunto che si sa confrontare con il cittadino e una persona soprattutto che ascolta. Infatti io proprio sono l'esempio pratico, io e il mio gruppo, proprio perché ci ha avvicinato con questa naturalezza, ci ha coinvolto e abbiamo deciso proprio di sposare la sua, diciamo, la sua appunto candidatura. Per questo io sostengo Annalisa Germana. Mentre Giuseppe Trusso perché bisognerebbe votare Salvatore Librizi? Allora io ho conosciuto Salvatore Librizi cinque anni fa, mi ha coinvolto in questa avventura straordinaria, in questi cinque anni non ha indietreggiato di un solo centimetro, è stato presente in tutte le battaglie importanti dove c'era, diciamo, di mezzo la tutela dei cittadini. Lo ritengo una persona di altissimo spessore, con un bagaglio di relazioni istituzionali non indifferente, il che ci consentirà di ritornare nuovamente a dialogare con le istituzioni, istituzioni che spesso ci chiudono la porta per un modo molto superbo di fare e che ci consentirà soprattutto di ritornare nuovamente a frequentare le stanze in cui, ahimè, si muovono anche le risorse, che sono poi la cosa che consente a tutti noi, che consentirà a tutti noi di realizzare i progetti. Salvo Librizi si sta mostrando per quello che è, una persona molto vicina alla gente, nei video di questi giorni lo state notando, una persona che in questa campagna elettorale sta affrontando, si sta proponendo degli obiettivi facili e raggiungibili, non degli obiettivi dell'altro mondo e lo faremo tutti insieme, lo faremo tutti insieme perché il gruppo che Salvo, che Salvatore Librizi è riuscito a creare è un gruppo di persone perbene, di persone che non hanno nessuna necessità di fare politica, che hanno un proprio lavoro e che mettono il loro tempo con grande difficoltà ma anche con grande spirito di servizio e piacere, a disposizione della costa pubblica per rilanciare nuovamente il paese. Il rilancio del paese passa necessariamente attraverso il turismo, che non significa organizzare il concerto, perché per organizzare il concerto non ci vuole poi tutta questa grande maestria. Il rilancio turistico significa attrarre flussi, significa creare ricettività, significa allargare, aumentare la qualità della nostra offerta. Io credo che Salvo Librizi abbia in sé tutte le caratteristiche che un sindaco oggi debba avere. Bene, io vi ringrazio e mi dispiace, l'ho detto all'inizio, lo ripeto alla fine di questa puntata che non ci sia stato un terzo interlocutore, perché avrei voluto trattare anche con questo interlocutore gli argomenti che abbiamo discusso proprio qui, dai rifiuti al turismo, insomma tutto dallo stato economico al stato sociale, insomma tutti gli argomenti che abbiamo trattato. Mi dispiace perché insomma sarebbe stato ancora più interessante, ma devo essere onesto è stato molto interessante anche con l'assenza di un terzo candidato e io pregherei tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento o ci stanno anche guardando, non me ne voglia Giuseppe Drusso, di prendere esempio da Michele Ridolfo, un avvocato alla sua prima esperienza politica, anche radiofonica e video, ma che non ha avuto nessun timore a confrontarsi con una persona che delle telecamere e dei microfoni, insomma ormai ne è ampiamente abituato come Giuseppe Drusso e quindi lo ha fatto con un grande spirito di sacrificio secondo me, ma anche con un grande spirito di partecipazione, quindi lo prendo come esempio, complimenti ancora a Michele Ridolfo e a Giuseppe Drusso per essere stati con noi, prossimo appuntamento, mercoledì ci occuperemo di un altro comune, sempre qui su Radio Doc in diretta dalle 17 alle 18, grazie.